BlusaatedB uncommon, sei il Spartanx!! Io sono Leonix oggi sono 3 a 2 di sindi video Oggi faremo una vieno contro Useis per decidere finalmente chi è più forte. Ovviamente io Da MK cioè da Mati io ho iniziato il video eh Secondo te no PAD Lo può dire anche lui eh Cosa ti faccio? Aspetta un attimo Si fa... No aspetta un attimo Come hai sbagla Mirko E quindi raga visto che anche lui Dice che lo haro da pad Mi ha detto Puoi giocare da moda stasera Almeno ho più possibilità di batter Perché abbiamo fatto il riscaldamento 1-0 mio Vabbè diciamo un po' easy Un po' easy per lui Perché Raga per lui è un po' easy perché comunque Comunque Da moda stasera io cosa ti faccio Cioè da pad Tia Vabbè raga lo batto E quindi gioco da moda stasera Per facilitargli le cose Eh mi sono allenato Cioè in realtà non mi sono allenato Oh fra Oh lag fra Lag fra Ok raga fate finta che siamo 1-0 Perché il primo era di riscaldamento Arrivo a 5 poi tutti e due dobbiamo andare a registrare Una cosa Il video solo per chiarirci tra Noi Raga Ma vabbè Molo Molo farò anche io Ovviamente raga Lui è molto facilitato Perché è l'automiramele Io che sono mossa stasera E il motore E il motore Nooo Non mi ha sbicciato il pompa Oh Eh vabbè Au E io ho detto che da mo stasera non sono proprio tanto forte Però io ci provo Perché comunque Ci voglio provare Perché raga mi si alzate la sensibilità a caso Guardate Mi si alzate la sensibilità di colpo Oh mio dio Raga Raga Prima non facevo così Raga aspetta da un attimo Mi abbasso la sensibilità Aspetta Aspetta E' una cosa Io li farei le live Io la faccio due volte alla settimana E questo l'ho capito Perché Già l'ho visto Già l'ho visto Lo sai perché Perché Sarebbe un po' Lo spreco di tempo Eccomi Molto meglio Infatti I video Infatti Vuol tornare a faremo un video Lo faremo un video Lo faremo un video No dai No 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 Non ho sperato Vabbè GG Aia E' che l'ho detto Oh raga ce le provo Che sto giocando un amostiziere Vedere i tasti Tutto Ok Sì sì Ok Infatti però la webcam La webcam Io ce l'ho Solo che mi si è surriscaldata Cioè Sono surriscaldata Come si Come si è cazzo Vabbè 90 Perché io ve l'ho detto Che con la mira Non so tanto buono Perché Ovviamente lui ha tutto La tua mira Tutto Quindi comunque Ma dai Ma what Aia Raga io Con l'automira Non posso giocare Io Allora Provo a fare una cosa Visto che siamo 2 a 2 Se vinci Quest Eh O mio di è vero No E noi siamo 2 a 2 Perché quella mia Era di riscaldamento Eh Con la tua Dei riscaldamento Eh 2 a 2 E questa Io l'ho vinta 3 Con la di Io non ho Tu se ti ricordi Il riscaldamento L'ho vinta 0 Vinta Tu Quindi siamo 3 a 2 Dai quindi Uno e meno No Ah si si Siamo 3 a 2 Dai te la faccio Con la di riscaldamento Quindi ragazzi Mi uccide stavolta Già devo giocare Da pad Cioè Proprio Perché Contro la tua mira Ragazzi Non posso giocare Contro la mia stessa Arma da pad Non posso giocare Mamma Vabbè Ragazzi Non gli credete Eh si va bene Let's go Siamo 3 a 3 Se ne vinci uno Devo giocare Da pad Sicuramente Perché Se no raga C'è Capito che ti ero Sì Lo ha raga Non è per insultarlo Ma lo dice anche lui Che lo ha da pad Però Eh Mi dicono Lo ha raga Non posso perdere Contro di lui Doveva arriva a 5 Siamo 3 a 3 Bello Dai ma com'hai fa a metterli No c'ho Eh raga Oh 200 Dai fra ma Ma pure Come fai a metterla Scala dentro Al mio box Che era mia Mamma mia raga Dai MK Per favore Pure se non ci gioco Da Raga Non ci gioco Da tanto Da MK Anzi Non ci gioco Così mai Quindi Batterlo da qua Sarebbe umiliante No Le gioco Oh Sgoo È per entrarti Nella box Ok Ragazzi A me Oggi almeno Non me la può metterla Scala Oh vabbè 90 mi cacchio fa e ancora non me lo viedo ragazzi io me lo lascio uno shieldino sapete mi cacchio mi devo grattare ok mi devo grattare di nuovo ok ok ho fatto madonna sull'armi non ti rompe ahia ti ho dovuto fare 200 ok regà concentriamoci da pad cioè in realtà non concentriamoci sto perdendo no è vero incontri buga ma come se incontri buga col pad cioè c'è un po' uguali eh sì no mongrelata a me no eh mi dispi te l'ho fatta però eh no perché non c'ero non c'ero aspetta andiamo in chat gioco andiamo in chat gioco aspetta giocava con me città ma non c'ero ma non c'ero e da fra c'è capito che verrà via no di che mi ha fatto di mattia si mi ha fatto e bo sto botta non è mattia si non vorrà mai più giocare con me oh mattia si ti sente perché perché io ho il microfono attaccato manca l'ultimo per me quindi rega visto che manca l'ultimo ciao 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 no ma chi è che è così hai vinto te hai vinto te hai vinto te non parola di rispaldamento ah quindi siamo 4-4 ok aspetta vado un cento parti fermi ti resta con mano ma mamma ma ma dove vogliamo fare tipo invidio gli amici e facciamo tutti quella murder mystery di ieri che mi son un botto divertito ma di che in minecraft no ma murder mystery di fornite murder mystery oh quella dove c'era ah ieri sì come se ci sono allora io gli invito aspera mi unisco da loro mattia se c'è a meno di 200 di vita e risentino noi ci vediamo nel prossimo video ciao raga let's go